Il governo giallo-verde Perché verde è il colore dei boschi, è il colore della speranza, il giallo è un colore luminoso. Qua credo sia all'ulteriore riscontro che si tratta di un governo nero. Credo che questo decreto va in una direzione di forte contrasto con le libertà civili. Innanzitutto cominciamo a entrare in una pesante discriminazione delle persone a seconda della provenienza geografica. Si va contro il diritto internazionale all'asilo e quindi in aperta violazione delle convenzioni internazionali della Costituzione Repubblicana. Invece di ridurre si aumentano le possibilità di arresto, di detenzione di persone senza aver commesso nessun reato. Si passa fino a 180 giorni, oltre a tutta una serie di restrizioni in attesa dell'identificazione completa. Si incide sull'anagrafe, si incide sulla protezione umanitaria, si incide sui SPRAR. Guarda caso, che è l'unico modello con tutti i suoi limiti funzionanti, cioè che è quella dell'integrazione diffusa sul territorio. Quindi si vanno a colpire le persone che senza aver commesso reato sono considerate già di per sé pericolose e invece nulla c'è contro gli scafisti e contro le mafie, lo voglio dire subito. Non c'è nulla di particolarmente significativo nei confronti dei trafficanti di esseri umani e dei mafiosi, c'è molta poca roba. Invece ci sono altri interventi normativi sul piano del diritto penale e della procedura penale che preoccupano. L'aumento per esempio della pena sino a sei anni per il blocco stradale significa il concreto pericolo che i partecipanti di un corteo si possano trovare per un'interpretazione non costituzionalmente orientata in galera. L'aumento della pena fino a quattro anni per l'articolo 633 per capirci occupazioni abusive che Salvini le vende magari come l'occupazione della camorra, ma quella è un'altra cosa, non c'è bisogno del 633 se la camorra o quei sono altri delitti, significa ad esempio che anche casi di utilizzo di beni abbandonati da parte di comunità di abitanti che vanno per eliminare il degrado e portare civiltà possono essere arrestati perché la pena fino a quattro anni è una pena consistente con possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche, magari per andare a individuare laddove si può alimentare il dissenso democratico nei confronti di un governo autoritario. Invece di consentire ai comuni come il nostro di assumere domani mattina i poliziotti municipali si pensa di introdurre il taser, mi pare così si chiama, nei confronti dei poliziotti municipali. Io preferirei che ci dessero le risorse per assumere tutti i poliziotti municipali per poter avere finalmente il collegamento radio e poter avere le risorse necessarie per pagare i straordinari. Come voi sapete noi abbiamo ridotto all'umicino la possibilità di utilizzare i poliziotti municipali la notte e i festivi, di questo non c'è nulla. Potrei continuare perché i punti sono davvero tanti, però complessivamente, poi veniamo alle domande mi sembra un'involuzione autoritaria molto pericolosa una torsione a destra forte in violazione dell'impianto democratico delle libertà civili della Costituzione Repubblicana. Di fronte a questo credo che si deve mettere in campo una mobilitazione forte, democratica, popolare e mi auguro che in Parlamento tutta la maggioranza che sostiene il governo nero non siano anche loro diventati tutti quanti neri perché qua l'obiettivo è colpire quelli che hanno la pelle magari nera ma è di far apparire sempre di più al Paese che il problema non sono gli oppressori alla Salvini ma gli oppressi. E ricordiamoci e chiudo che uno dei principali protagonisti del tema perché oggi abbiamo una situazione dell'immigrazione in parte fuori controllo sono i governi che si sono succeduti in questi anni compreso a Guida Salvini di cui il governo del cambiamento tra virgolette di oggi dà una risposta sì di cambiamento ma non per affrontare in modo serio il tema dell'immigrazione ma di colpire le libertà civili. È un messaggio molto pericoloso perché pone l'Italia nel mondo come un Paese che ha deciso di fare passi indietro enormi nei confronti dell'attuazione della Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo. Grazie a tutti.